Gran premio d'Ungheria, 4.381 metri, un asfalto scivoloso, polveroso e soprattutto caratterizzato da alte temperature che possono raggiungere i 50 gradi. Soft e super soft sono le soluzioni gommose portate su questo tracciato per compensare i problemi di aderenza di un asfalto particolarmente sdrucciolevole e quindi in pista sulla nostra monoposto virtuale su uno dei tracciati misti tecnici più impegnativi del mondiale. Curva 2, seconda marcia a poco più di 100 km orari, la pista scollina verso l'esterno ed accentua il sottosterzo che nel tratto finale aumenta di intensità. La ruota anteriore destra, soprattutto con la mescola morbida, si incarica di mantenere l'assetto ottimale per tutto l'arco della curva. Sequenza di curvi in rapida successione ad alta velocità, la linea di percorrenza porta sul cordolo esterno, l'impatto genera sollecitazioni sul pneumatico in appoggio di oltre 800 kg. Fenomeno che si ripete con maggiore intensità sull'ultimo cordolo dove si arriva a 240 all'ora e si generano frequenze vibranti che impegnano spalle e battistrada. Ultimo tratto di pista molto impegnativo, tornante secco a sinistra, bassa velocità e ridotta deportanza delegano le coperture l'aderenza alla pista. Super lavoro delle mescole che garantiscono grip all'anteriore per manovrare la manoposto e trazioni in uscita dai tornanti per scaricare in pieno la potenza del motore.